Reddito di cittadinanza, nuovi aggiornamenti e molte le novità operative del 1 gennaio 2023 che a Caltanissetta riguarderanno ben 2.400 beneficiari della misura di sostegno economico, di cui poco meno della metà sono in carico al Comune e il resto al centro per l'impiego. Le modifiche sono inserite nella legge di bilancio 2023 sulle quali la Commissione di bilancio della Camera è al settimo giorno di lavoro ed avendo concluso l'esame degli emendamenti, il testo approderà in aula alla Camera domani con il voto di fiducia atteso venerdì. Tra le modifiche previste in prima stesura si aggiungono quelle contenute degli emendamenti presentati al testo tra il 17 e il 18 dicembre scorsi in Parlamento, tutte le novità che sembrerebbero aprire la strada alla revoca graduale e definitiva della misura nel 2024. Intanto nel maxi emendamento della manovra del 19 dicembre si prevede che chi abbia tra i 18 e i 59 anni e sia abile al lavoro e senza disabili in famiglia o minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età possa ricevere il reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità invece delle 8 previste dalla prima bozza della manovra. Al posto quindi delle 18 mensilità rinnovabili viste già nel 2021 e nel 2022. Previsto in modo chiaro il requisito della residenza in Italia che nella formulazione precedente non era esplicitato. Verrà istituito un fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva, ci sarà infatti l'obbligo di formazione anche in caso di riqualificazione professionale del soggetto per almeno 6 mesi obbligatori per tutti coloro che percepiscono il reddito appena la decadenza. Più controlli e nuovi incentivi per la ricollocazione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il maggior reddito da lavoro percepito con contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorrerà al 2023 alla determinazione del beneficio economico entro il massimo di 3.000 euro lordi. Ci saranno poi più controlli e nuovi incentivi per la ricollocazione dei percettori. Si attende quindi venerdì per il testo definitivo con le relative modifiche del Parlamento.